Il lignaggio di Barba Nera, la sua scendenza, la sua stirpe, è un mucanere, sarà figlio di Rox Dixbeck, è un chiatone come me che se gli tagli le vene esce fuori invece del sangue pomodoro della pizza, non lo so. Però qual è il piano di Barba Nera? Che cosa è scogitato in tutti questi anni? E soprattutto che cosa ci facevano lì su Eged, Katarina Devon e Van Augur? Qual era la loro missione? Che cosa volevano? Chi li ha spinti a farlo oltre che a spingitori di sodali di Barba Nera? Come al solito, mentre voi mi cominciate ancora prima di ascoltare le mie folli e lucubrazioni settimanali a proposito del capitolo 1107, voi vi rispondete adesso subito a queste domande e prima di immergerci nell'essenza di questo capitolo fenomenale, fatemelo sapere con un commentino e mentre la sigla scorre, mettete anche un bel mi piace, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella per non perdere nessun video e aiutare questo umile canale ad assurgere nell'Empirio, come al solito, del nulla. Siamo pronti? E allora? Sigla! Vai maestro! Vai con la sigla! Sigleggia! Siamo pronti! Kung Fu Panda 3 che dice letteralmente Più prendi e meno hai E fateci caso, non so se cucinate o vi piace cucinare Io che sono un chiatore di merda, a me piace cucinare E allora ogni qualvolta impasto con la farina, con le uova, faccio i miei impasti Più stringo all'interno del mio pugno l'impasto Più l'impasto sfugge via Più se ne va Più prendo e meno ho E sarà purtroppo per noi questa la vera fine di Barba Nera Perché ad oggi Edward D. Teach è l'uomo che ha per le mani Fateci caso I poteri più potenti del mondo di One Piece Oltre che per se stesso Due dei potenti Due dei poteri più potenti del mondo di One Piece Ha a che fare Se sei rubato i road poneglyph Ha una conoscenza assoluta, totale, tombale di alcune cose fondamentali per la storia del mondo di One Piece Ha a sua disposizione un numero di criminali incredibili E da questo capitolo 1107 Non solo ha Senza probabilmente Il controllo sui Serafini Ma avendo la possibilità anche di confondersi O di prendere le fattezze Di uno degli astri di demenza I Serafini li può comandare Con il controllo Vocale È un mito È un genio È il più forte Veramente È il villain che da sempre Striscia e si nasconde In questo caso letteralmente Nell'oscurità del mondo di One Piece E noi siamo felici per questo Io in primis lo sapete Ma prima di capire tutto questo Prima di provare a rispondere ad alcune domande E prima davvero di Insomma cercare di dare una forma Quanto meno logica alle nostre Davvero elucubrazioni Nonché illazioni Proviamo a fare un attimo Un saltino indietro Perché dal mio punto di vista Credo che Arrivati a questo punto I complimenti All'Eichiro Sensei Siano veramente superflui È arrivato a un livello Di narrazione E di capacità narrativa Di padroneggiamento Dello storytelling tale Che Veramente Chapeau Ma che cosa gli vuoi di più A questo cristiano Nel corso della Blind Reading Reaction Che trovate Insomma Linkino in descrizione Dicevo che Veramente Mi piacerebbe Avere a che fare Con Oda Almeno per una settimana intera Per capire lui Come ragiona Come funziona La sua fantasia Come funziona La sua inventiva Perché È veramente Un qualcosa Di mai visto One Piece Ogni settimana Questo autore Riesce Ad alzare Sempre di più Non solo L'asticella Dell'attenzione Di noi lettori Ma La qualità Del patos La qualità Dell'ethos Di questa storia Incredibile Storia incredibile Che Anche dal punto di vista Grafico Che che Ne dicano Quelli che One Piece Non lo leggono Ha veramente Dei picchi Qualitativi Allucinanti La doppia splash page Con i giganti È veramente Fantastica Dal punto di vista Della composizione Dal punto di vista Del paneling Con questi giganti Che Veramente Come Dei piccoli Eren Yeager Arrivano E Utilizzano La loro possenza Per fare In piccolo Su Eged Quello che Eren Yeager Ha fatto Con la marcia Dei giganti All'interno Dell'attacco Dei giganti Mi autocito Chiaramente Però È veramente Tutto bello Tutto meraviglioso Una messa in scena Incredibile E Il livello A cui Ormai È arrivata La ciurma Dei pirati Di Luffy Ridendo E scherzando Ridendo E scherzando È Sul serio Quella Di una ciurma Di imperatori Perché A metà One Piece Avere di fronte Un ammiraglio Oppure Uno come Rob Lucci Era Il momento In cui Ogni lettore Sapeva Di avere Di fronte Il boss Di saga Oppure Una sorta Di Scoglio Quasi Insormontabile Invece Adesso Tutti hanno Contezza Del fatto Che Sì C'è Zoro Gigioneggia E Lecco E Spadine Plim 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 Contro Contro Lucci Non si mette Manco la bandana Lo prende Per il culo E Sanji Che meraviglia È veramente Il personaggio Forse Più Poetico Tra tutti Una Una sicurezza Un Sour Fair Veramente Incredibile Io mi sono emozionato Questa volta Con Sanji Non che le altre volte Non mi avesse Emozionato O non mi avesse Hypato Però Il fatto che Lui continui Imperterrito A mostrare Che la forza Dell'amore E adesso ci arriviamo Vedete le cose Poi come tornano Che la forza Dell'amore È veramente Quell'energia Che muove il sole E le altre stelle È poetico Non puoi Non essere innamorato Di un personaggio Come Sanji Che con una sicumera Tale Ormai Prende per il culo Un ammiraglio Fantastico Avro una parentesi Su Kizaru Prima di parlare Ecco Della forza Dell'amore Che sfida addirittura Le leggi Della fisica Perché Questo Kizaru Che Prima di ammazzare Vegapunk E Bonnie Spara E laggi laser Chiudendo gli occhi È proprio L'apoteosi Dello statalismo Un uomo Piegato Dal volere Di poter arrivare Alla pensione È l'unica cosa Che mi viene in mente Cioè Per paradosso Uno come Ryokugio Nel suo essere Estremamente fascista E nazista Aveva Un suo perché Invece Che questo Kizaru Cioè È proprio L'apoteosi Dello statale Italiano Lo devo fare Perché lo devo fare E quando devo fare Le cose più abiette Non voglio neanche Vederle Quella scena Ammetto Che mi ha fatto Crollare Qualsiasi Idea Più o meno Positiva Che avrei potuto Avere ancora Nei suoi riguardi No dopo di questa Per me è veramente Finita È proprio Kizaru È il peggio È il peggior Ammiraglio Di tutti i tempi È proprio È terrificante Però Quando Kizaru Vede con quella Faccia sconvolta Meravigliosa Naturalmente Sanji Deviare Il suo Raggio laser Tanto che Lo stesso Frankie Dice Oddio Ma quello Un fottuto Raggio laser Come cazzo Ha fatto E qui si potrebbe Già andare a citare Il fatto Che lo stesso Vegapunk All'inizio Proprio Di Eged A proposito Della Rifrazione Della luce Dei laser E degli Ologrammi Si chiedeva Ma che cosa È vero Che cosa Non è vero Sanji Dice Che Ecco L'amore È una forza Talmente Gigantesca Da Insomma Non farsi Neanche Fare il solletico Da un Raggio laser E Kizaru Dice Ma se le cose Sessero così Allora Noi dovremmo Prendere i libri Di fisica Cancelarli E riscriverli Da capo Non è una Considerazione Stupida Cioè Il fatto Che l'amore È più potente Di un laggio Laser E quindi È più potente Delle leggi Della fisica Travalicano Le leggi Della fisica Non è una Considerazione Messa a caso Così Come se niente Fosse Perché Tutto quello Che capita In one piece In one piece E anche Lo stesso Vegap Anche lo diceva Se non è scienza È frutto Del diavolo Il frutto Del diavolo È un qualcosa Che esce fuori Lì Dal desiderio Dal desiderio Dell'uomo Il desiderio Dell'uomo Che è un qualcosa Vitalmente gigantesco Da creare I frutti Del diavolo E Il più grande Fulgido Esempio Di scienziato Già ce lo raccontava Nel volume 25 Con quella Scena La mia scena Preferita In one piece Con il galeone Che cade giù Dal cielo E la meravigliosa Didascalia Di Willy Gallon Che diceva Nulla è impossibile Quando l'uomo Lavora Con l'immaginazione Quindi Non dobbiamo Stupirci Che All'interno Di one piece L'amore È una forza Talmente gigantesca Da riuscire Addirittura A riscrivere Le leggi Della fisica Perché One piece È il fumetto Dell'impossibile È il fumetto Che rende Possibile L'impossibile Grazie a che cosa Grazie Al potere Della libertà E al potere Dell'immaginazione Cioè Ormai Tutte le settimane Stava a fare Lo stesso discorso Perché quello è Fine Mettiamoci in testa Questa Considerazione Niente A questo mondo E nel mondo Di one piece È impossibile Perché Nulla È impossibile Se pensi Che sia vero E qui Uno si deve Affermare Perché un conto È Willy Gallon Questo fisico Immaginario Si sa L'abbiamo mai visto L'abbiamo solo sentito Parlare In quella Didascalia Nulla è impossibile Quando l'uomo Lavora Con l'immaginazione Quindi Se nulla è impossibile Tutto È possibile Io l'ho riletto L'altro giorno Io l'ho riletto L'altro giorno Sapete Chi è che dice Dentro one piece Che Niente Nel mondo Di one piece È impossibile Dove sta Dove sta Datevelo Eccolo qua È lui È per forza Raffaculo È caduto tutto Eccolo qua Guarda quanto è bello È lui Niente è impossibile Barbanera Barbanera dice Niente è impossibile A questo mondo Proprio lui Per forza L'uomo L'uomo Che ha Immaginato Un piano Lungo Una vita intera L'uomo Che non può Dormire Che sogna Di realizzare I propri sogni Perché Perché se può Immaginarlo Puoi farlo Perché Nulla è impossibile Perché tutto Diventa possibile Se lo può Immaginare Cioè Voi immaginatevi Questa barbanera Che per tutta La sua vita Ha immaginato Una scalata Al potere Aspettando Una piccola Finestra Che potesse Diventare Il momento Portuno Per stringere Con le proprie mani Tutto il suo Destino Ma che cazzo Di capolavoro Destino Fortuna Poi No Se lo chiede Sempre Barbanera Se lo chiedono I sodali Di Barbanera Domande che Ritornano Risposte Che ci sfuggono Mi avrebbe da dire Van Augur E Katarina Davon In questo capitolo Si sono ritrovati davanti Siga Saturn Perché erano Destinati A trovarsi Esattamente In quel posto In quel momento O sono stati Fortunati A trovarsi Esattamente In quel posto In quel momento Sono domande Le cui risposte Al momento Non ce l'abbiamo Ci sfuggono Ci sfuggono Tra le mani Come sogni Che si allontanano Nel nostro Dormiveglia Mi verrebbe quasi Da dire Ma sono domande Però Che innescano Ragionamenti Titanici Giganteschi Mi verrebbe da dire Visto il capitolo Che abbiamo A nostra disposizione Perché La visione Di Barbanera Come abbiamo raccontato Tantissime altre volte Nel corso Di innumerevoli report Nel corso Di questi Quest'anno Il quattordicesimo anno Di One Piece Report Anche se È diventato Una cosa un po' più diversa Però Barbanera Insomma Ha coltivato Una visione Figlia Di una pianificazione Perfetta Però Questa pianificazione Tutto sommato Sotto molti aspetti E questa però È una mia interpretazione Naturalmente Lo ha reso Una sorta di schiavo Del proprio destino Cioè Barbanera Quasi Sembra Non voler Riuscire Non poter riuscire A pensare Out of the box Cioè Fuori dagli schemi O meglio Il suo piano È un qualcosa Che sfugge Agli schemi razionali Tanto che Lo stesso Siga Saturn Si fa questa domanda Ma voi State sempre in mezzo Ma che cosa puntate Al mondo Però Questa pianificazione Eseguita Nei minimi particolari Fa in modo che Barbanera Per arrivare Alla conquista Del mondo Al diventare Il re del mondo Il padrone Del mondo Non possa sfuggire A tutto ciò Che ha pensato Nel corso Di una vita intera Quindi veramente Barbanera Da questo punto di vista È schiavo È schiavo di se stesso Più stringe Menoa Potere di Luffy Da questo punto di vista È completamente Antitetico Diverso Perché È un potere Dell'immaginazione Senza confini È una libertà anarchica È completamente anarchica Priva di Di ogni catena Priva di Ogni compromesso Mi verrebbe da dire È fantastica questa cosa Noi ne abbiamo già Anche questa cosa Ampiamente parlato No? Una dicotomia Estrema Barbanera È l'uomo Che detiene Tutto Però Proprio per questo Questo affastellarsi Di cose Secondo me A un certo punto Gli sfuggerà di mano Come abbiamo detto All'inizio Cioè lui È destinato a cadere Per nostra sfortuna Anche di questo E anche di questo Tra poco Ne parliamo Mentre invece Ecco Luffy Ha iniziato Questa avventura Che per l'appunto Non ha restrizioni Luffy sin dall'inizio È l'uomo più libero Dei mari È un uomo che È un uomo Un ragazzo Che parte All'avventura Senza avere nulla Senza possedere nulla Senza aspettarsi nulla Tranne il voler raggiungere Idealmente un sogno Che forse non si sa nemmeno se esiste Ma anche solo il fatto ecco Di pensarlo e immaginarlo Fa in modo di mettere in avanti In azione Questo sogno incredibile Questa avventura incredibile E nel corso della sua storia Cioè fateci caso Luffy tutto sommato Lascia sempre liberi Di decidere Gli altri Lascia liberi tutti Cioè lui non vuole costringere Nessuno A fare quello che dice lui Quello che pensa lui Ed è questa Una sorta di libertà Di azione Cioè Il lasciare tutti quanti liberi Di vivere La propria vita È una cosa che arricchisce Tutti E lo diceva anche lui Davvero Non c'è nessuno Che ami la libertà Più Del re dei pirati E quindi questo poi Alla fine Quindi si comincia anche a capire Perché Mioc diceva Che il suo È il potere più terribile Di tutti i mari Ovvero quello di Farsi gli amichetti Perché Perché lui li lascia liberi Li lascia liberi Di agire Come è meglio Crede Credono Quindi Luffy Ottiene tutto Non volendo Nulla O non conquistando Nulla Perché ottiene Il favore Di qualunque persona Egli incontra Nel corso Del suo cammino Mentre invece Purtroppo Barba Nera Perde Perché Vorrà possedere Per forza Qualunque cosa Però qui Dobbiamo cominciare Un attimo A ragionare A dare qualche risposta Tenendo conto Di quello che abbiamo letto Nel corso di questo capitolo 1107 Mamma mia 1107 Qua Qua One Piece Sta finendo Ragazzi Mettiamoci l'anima in pace Perché La questione Del perché Catarina Davon E Van Augur Erano proprio lì Su Eged Nascosti Da qualche parte Infrattati Per un giorno intero Più o meno Secondo me Abbastanza lampante Cioè Barba Nera Ha visto i Serafini Li ha visti Li ha visti Su Amazon Lily E quindi Evidentemente Avrà mandato Van Augur E Catarina Davon A studiarli A fare qualcosa A cercare un metodo Per circuirli Credo che sia Abbastanza semplice Da Da capire Che Quello Potrebbe essere O poteva essere O può essere La loro missione E Il fatto che si siano Incontrati con Saturn Per fortuna O per destino Questo Solo E Ciro Oda Lo sa Non era programmato Ho già letto alcuni Commenti di persone Sotto i miei video Ah ma perché Loro sono andati Aspettandosi No Non era programmato Loro lo dicono Rimangono stupiti Del fatto di aver visto Uno dei cinque astri Di demenza Non solo lì Rotolarsi Nella polvere Ma addirittura Scendere Dai piani alti Di Marijua E quando però Katarina Davon Dice Che il loro incontro Gli è stato D'aiuto Gli ha facilitati Missione compiuta E' interessante Perché Non solo adesso Katarina Davon Come dicevamo Anche all'inizio Si può trasformare In Siga Saturn Ma nel trasformarsi In Siga Saturn Loro con comando vocale Possono avere accesso A tutti i serafini Fine E' molto semplice Allora mi viene da pensare Che quando Katarina Davon Dice Grazie Insomma Questa roba Adesso ci ha facilitato Tutto a posto Missione compiuta Mi fa venire in mente Che evidentemente Eventualmente Il piano di Barba Nera Di affiliarsi Al governo mondiale Cioè di trasformare Il suo impero Ecco L'isola dei pirati In un'isola Affiliata al governo mondiale Forse serviva proprio Per avvicinarsi Ai cinque astri Di demenza Per fare qualcosa Con loro Adesso non ne hanno Evidentemente più bisogno Perché E' perché Il loro piano Ha avuto uno speed up Improvviso E poi soprattutto Cioè il fatto che Ormai Alla SNAI Questa non te la puoi giocare più Barba Nera Barba Nera Abbia E avrà sicuramente I serafini Dalla sua parte Fa capire Che ormai Governo e Marina Sono rimasti totalmente A Napoli Si dice Ai piedi di Pilato Ai piedi di Pilato Quando uno è disperato Non ha letteralmente Più Alcuna arma A sua disposizione E I I Cuma Ormai sono di Bonni Cioè Bonni Può comandare Tutti gli orsi Bartolomei In giro per il mondo Se Barba Nera Può aver dalla sua Tutti I serafini Governo Marins Non hanno più forza militare Tranne quei poveri Marins Che purtroppo Ci rimarranno sotto Perché sono Insomma Su poveracci Però Qui ci tocca Una sorta di doppio Angolo delle nazioni Che più che doppio È fantascienza Perché Ad oggi Tenendo conto Di quello che abbiamo visto In questo capitolo 1107 di One Piece E tenendo conto Di tutto quello Che abbiamo visto A proposito Di questo piano Incredibile Di Barba Nera Davanti ai miei occhi Si profilano Due scenari Fantascientifici Che Essendo quindi Parto della mia mente Io già so Che Oda Andrà Completamente In un'altra direzione Non sarà Questa roba qui Non la vedremo mai Però Per una volta Permettetemi Ecco Di lasciarmi andare Con Immagini fantastiche E anche io Per una volta Voglio Volare Con la fantasia Perché Meraviglioso Il fatto che Caribo Tutto sommato Voleva Volesse essere Il gruppi Di Barba Nera Meraviglioso Il fatto che Caribo Sia L'anti Bartolomeo Quindi Rufy C'ha il suo fanboy Barba Nera C'ha il suo fanboy Quindi a questo punto Credo che Anche qui Sia già scritto Nelle stelle Nel destino Caribo Contro Bartolomeo Oda Ce lo devi far vedere A questo punto Non si può sfuggire A questa regola Ma Proprio per via Del fatto che Bartolomeo Ed evidentemente Lui ogni qualvolta Diceva questa roba Vorrei dirla A quella persona Vorrei riferirla A quella persona Chiaramente Ormai Insomma anche questa Voleva andare da Barba Nera Quindi voleva Spiattellare Tutta Barba Nera E tenendo Conto del fatto Che Questa è una cosa Che dicevamo Illazionavamo Da tempo Caribo Sa Chi è Shiraoshi E sa Che Awanoguni Nascosta Sotto L'isola C'è Pluton Sarà Interessante Secondo me Se si profilasse Una situazione Dove Il governo Mondiale C'ha Motherflame Con le bombe Dall'alto Potentissime Barba Nera Awanoguni E a colpi Di gura gura Potopom 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 Distrugge le mura E si prende Pluton Rimane Luffy Koshiraoshi Ultima arma Ancestrale Adesso è interessante Avere questa sorta Di Triello Totale Tombale Per cui Succede Il patatrack Perché Avresti Veramente Tre forze Di un certo Peso Che si Dividono Il mondo Anche perché Poi Alla fine Della fiera Ma voi Veramente Ce lo vedete Uno Shanks Un buggy Mettersi Contro Luffy Non lo so Mi sembra Veramente Strano Una roba Del genere La potrei Immaginare Una sorta Di Veramente Triello Però è Fantascienza È Fantascienza Il secondo Scenario È quello Secondo me Più Interessante Più Filosofico Quanto Meno Anche se Dal mio Punto Di Vista Non solo Ci mancano Un sacco Di Non è che Non tornano Ci sono Delle cose Che Oda Dovrebbe Poi Spiegarci C'è una Considerazione Che io Ho fatto Tantissime Volte Nel corso Di questi Ormai Due Anni C'è dal Momento In cui Uscito Fuori Nika E Questo Capitolo È uno Di Quei Capitoli Che Conferma Questa Considerazione Ovvero Quando Bonny Dice A Luffy Io ti Aspettavo Da Tanto Tempo Ti Cercavo Da Tanto Tempo Finalmente Ti ho Trovato E Luffy Dice Ma io sono sempre Stato qui A fianco a te E Lei diceva Sì ma Non mi avevi Detto che Eri Nika E Luffy Dice Nika Che cazzo È Nika Proprio Per via Del fatto Che Luffy Attraverso Il suo Potere Esercita Una Sorta Di Libertà Anarchica Tale Da Diventare Più Grande Del suo Stesso Destino Luffy E Luffy Cioè Io lo Dico Da Sempre Se Luffy Gli Cominci A Raccontare Che Lui È L'incarnazione Di Un Dio Che Deve Conquistare Il Sogno Di Joy Boy Che Deve Andare Contro Il Governo Mondiale Perché Quello È Il suo Destino Luffy Si Annoia Cioè Se Gli Dici Tu Sei Un D Il Tuo Compito È Quello Di Abbattere Gli Stronzi Che Da 800 Anni Hanno Schiavizzato Il Mondo Tu Sei Il Liberatore Che Va in Giro A Liberare La Gente Quindi Devi Liberare Il Mondo Luffy Dice Vabbè Sapete Che C'è Vedete Questo Cappello Di Baglia Ve lo Potete Tenere Io Mi Sono Rotto Il Cazzo Non Mi Voglio Imbarcare In Un'avventura Prevedibile Perché Questa Dal Mio Punto Di Vista Un'avventura Prevedibile Se Vede In Luffy Cioè È Il Frutto Che Ha Scelto Luffy Perché È Il Frutto Che Ha Capito Che Luffy Poteva Essere L'unica Persona In Grado Di Esercitare Questo Tipo Di Potere Anarchico Non Viceversa Cioè Luffy Rimane Luffy E Niga Che Lo Nemmeno Con Il Vincolo Che Teoricamente Dovrebbe Essere La Su Essenza Stessa Di Divinità Quindi Quando Ecco Imusama Dice Che I Di Sono Come Degli Involucri Vuoti Per Cioè Loro Non Sapendo Chi Cazzo Sono Sono Totalmente Innocui E Quindi Mette In Modo Il Fatto Che Se Tu Sai Che Cos'è Un Di Mette In Moto Anche Tutta La Questione Della Volontà Ereditata Si Viene A Creare Una Sorta Di Inghippo Perché Tu Sai Che Questa Robba Qui La Scopri Solo Quando Arrivi All' Uftail Non Ci Sono Altri Mezzi Per Scoprirla Prima Cioè Tu Arrivi All' Uftail Sblocchi Il One Piece Scopri Gli 800 Anni Cosa è Successo Nei 100 Anni Di Vuoto 800 Anni Fa Scopri Tutti D Volontariamente Ha Piccato Il Fuoco Della Nuova Era Della Pirateria E Quindi In quel Momento Lì Ha messo I bastoni Tra le Ruote Al Governo Mondiale Però Di Nuovo Se Tu Questa Robba Qui A Luffy Gli La Fa Non Gli Ne Frega Niente Poi Stranamente Ogni Tanto Sente Parlare Di Poseidon O Di Plutone Ci serve No Non Ci serve Tutta Posta Allora Qui Entra In gioco Invece Barba Nera Barba Nera Vero Nemico Degli Dei Sarebbe Meravigliosa A questo Punto Perché L'uomo Letteralmente Lo dico Di nuovo Nell'ombra Che Rivoluziona Il Potere Diventando Re Del Mondo Quindi Paradosso Barba Nera È L'uomo Più Pericoloso Per il Governo Mondiale Perché Vuole Distruggere Quello Che È Il Governo Mondiale A noi Ci Manca Sempre Questo Pezzo Tutte Le azioni Che Luffy Ha Fatto Le Per I Membri Della Sua Ciurma Per Il Fratello Perché Bisognava Libera Tizio Perché Bisognava Liberare Caio Gente Che Conosceva Gente Che Conosceva Cioè Luffy Se Gli Dici Oh Ma Lo Le Cose Possono Cambiare Se Barba Nera Si Mettesse Lui Contro Il Governo Mondiale E Diventerebbe Lui Non Dico Il Tiranno Del Mondo Ma La Vera Grande Minaccia Quindi Luce Contro Oscurità In Maniera Totale Tombale Perché Barba Nera Poi È L'uomo Che Incidentalmente Ha Fatto Uccidere Ace C'è Una Motivazione Barba Nera È L'uomo Che Al Momento Tiene Non Si Sa Se Vivo Morto Ma Muore Nessuno Tiene Garp Sotto Sequestro È Quello Che Ciacobbi Sotto Sequestro È Quello Che Veramente Potrebbe Rappresentare Una Minaccia Concreta Al Mondo Che Luffy Conosce Ah Qui Avrebbe Più Senso Però Queste Sono Solamente Le Visioni Di Un Folle Io E Quindi Non Lo So Ad Oggi Sappiamo Ancora Niente Sappiamo Solo Che Questo Fumetto Arrivato Al Capitolo 1107 Settimana Dopo Settimana Ci fa Fare Non Solo Questi Voli Pindarici Meravigliosi Ma Ci fa Sognare Liberi Come Probabilmente Nessun Altro Fumetto Ad Oggi È In Grado Di Fare Questo È Quello Che Penso Io Fatemi Sapere Voi Che Cosa Ne Pensate Lasciatemi Il Sempiterno Commentino Qui Sotto Su Youtube Oppure Potete Venire E Iscrivermi Sul Perché Non Vi Volete Venire Sul Mio Instagram Ma Che Vi Ho Fatto Io Cioè Fatemi Capire Tanto Lo So Che Tutti Voi Che Vedete I Mie Video Instagram Ce L'avete Non Dite Che Non Ce L'avete Vi Volete Iscrivere Al Instagram Mente Disperato Mi Lasciate Da Solo Vabbè Non Fa Niente Fatemi Comunque Sapere Tutto E Per i Temerari Che Sono Arrivati In fondo A questo Enesimo Sequestro Di Persona Di 32 Minuti Hashtag Non lo Dico Nemmeno Hashtag Scrivetelo Voi Guarda qua Poi Questo Barbania Tiene Tiene La cosa De Shanks Perché Cioè Dal suo Punto Di Vista È Morto Non Lo So Capiamo Ma Uno Può Arrivare All'età Mia A Parlar Ancora De Popat Con I Popazzi Parlar Di Fumetti No Bambini Perché Vedi Bambini One Peace Ci fa Uscire Fuol Bambino Che In Noi Alla Prossima Hashtag Due V Arrivare Arrivare AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH